Torniamo da Paolo, secondo te utilizzare l'umorismo nei romanzi, non dico proprio scrivere romanzi comici che è lì, ma utilizzare l'umorismo nei romanzi li rende di genere più basso? No, al contrario, i grandi romanzi sono sempre, proprio quelli grandi 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 hanno sempre un po' di umorismo Quindi possiamo stare tranquilli? Assolutamente Dobbiamo utilizzare l'umorismo Sì, assolutamente, se ci riuscite siete più belli Questa era l'altra cosa che volevo chiederti, tutti possono riuscire o bisogna essere simpatici? Bisogna capire che, non è che bisogna essere simpatici, bisogna capire che anche la peggiore delle storie che stiamo raccontando, pure la nostra autobiografia sfigata Perché siamo orfanelli cresciuti nel peggior posto del mondo con le suore che ti menavano con le bacchettate sulle mani, eccetera, eccetera Anche quello può essere raccontato con ironia, con umorismo e può diventare così più forte, altrimenti poi magari è solo Io leggo tanti racconti di disordienti che non funzionano perché credono troppo all'aspetto drammatico della loro storia senza vederne gli aspetti invece differenti Dickens è un esempio in cui anche le più drammatiche delle storie possono, la più drammatica delle storie può avere degli svolti diciamo così umoristici Ma possono, allora ti rigiro la domanda, possono esistere romanzi senza ironia? Ci sono? Secondo me no, li ho letti ma li ho lasciati subito, se non sono brutti Oh, questa è un'affermazione forte e ci piace Farmacia letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius Se avete una domanda mandate un vocale 351-877-9461 Radio Genius Se ti piace metti